Quest'anno purtroppo, come tutti sanno, la commemorazione questa, specialmente della seconda domenica di maggio, verrà fatta nella forma che purtroppo l'emergenza ci richiede. Andremo io e il sindaco sul luogo a depositare sia il Sacrario dell'Ossario, sia la fossa comune che è poco distante, qualche centinaio di metri dall'Ossario, dove, come ho già detto prima, nell'Ossario sono stati raccolti tutti i resti dei caduti partigiani civili, tra questi molti stranieri, russi, cecoslovacchi, inglesi, che hanno partecipato alla guerra di resistenza in Val Sangone. Il secondo luogo della memoria è la fossa comune, dove nel mese di maggio, il famoso maggio di Sangue, precisamente il 16 maggio 1944, furono trucidati. Dopo aver fatto scavare questa fossa a questi 31 uomini, per la maggior parte partigiani, ma anche comunque civili, è stata fatta scavare questa fossa e poi sono stati mitragliati alle gambe e lasciati morire dissanguati. Io appunto, io e il sindaco andremo a depositare un omaggio floreale a ricordo di questa tragedia e a ricordo di questi grandi personaggi che hanno combattuto per la resistenza, per liberarci e per farci vivere un periodo di prosperità.